In vista dell'appuntamento finale, quello in programma l'8 maggio 2024 al Teatro Mercadante in Piazza Municipio a Napoli, con la premiazione anche del concorso Inventa, una soluzione per la sicurezza stradale, continua tappa dopo tappa il road show Sii Saggio Guida Sicuro. Ieri è stata la volta del comune di Sant'Egidio del Monte Albino che presso il centro di quartiere ha ospitato l'evento con i saluti affidati ad Antonio Lamura, sintaco di Sant'Egidio del Monte Albino, la presenza naturalmente anche dell'Associazione I Meridiani che organizza il progetto coinvolgendo le scuole del territorio con lo scopo di sviluppare incontri di educazione e sensibilizzazione alla sicurezza stradale presso gli istituti scolastici di primo e secondo grado e presso le università. Alla sua decima edizione il progetto ha incontrato ad oggi oltre 30.000 studenti e degli atenei anche della campagna in 22 incontri realizzati quest'anno sono stati formati oltre 5.200 studenti. L'obiettivo è educare i giovani a comportamenti responsabili e corretti per una guida sicura coinvolgendo le amministrazioni comunali secondo una priorità basata sull'incidentalità registrata sulle tratte stradali di competenza. Nel corso degli incontri i partecipanti sono coinvolti emotivamente anche dalla testimonianza diretta di chi ha vissuto la tragica perdita di persone care. Innanzitutto è stata esaudita quella che era la nostra richiesta che io avevo rivolto al consigliere regionale Franco Piccarone che ringrazio di inserire Sant'Egidio in questa tour di 14 appuntamenti. Quindi stamattina siamo qui a Sant'Egidio per questa tematica sentita a giorni d'oggi, la sicurezza stradale. Sicurezza stradale che vedrà gli attori principali, saranno i nostri alunni della scuola media inferiore. La scuola è basilare su tutti i settori ma specialmente in modo in questo settore, quella della sicurezza stradale perché i bambini, gli alunni, in questo caso io parlo di bambini perché noi qui a Sant'Egidio abbiamo solo scuole medie di primo grado non ci sono le scuole superiori ma devono essere educate, devono essere diciamo così dati tutti quei supporti informativi anzi io sono per inserire nei programmi didattici anche l'educazione stradale perché rappresentano i presenti e i futuri e quindi educarli nel saper rispettare le regole, in quel di rispettare non solo se stessi ma avere la consapevolezza che la propria libertà termina quando inizia la libertà degli altri. Quindi stare nella società, educare al rispetto degli altri ai pedoni, agli altri automobilistici. Quindi si parte dalle scuole, secondo me prima scuole elementari primarie, scuole medie inferiori andando avanti fino all'università di trasmettere quanto più educazione stradale. La Regione Campania sta sperimentando questa azione di formazione e informazione diretta soprattutto ai giovani ragazzi delle scuole superiori e dell'università per diminuire le statistiche molto pesanti che riguardano gli incidenti stradali e le morti per incidenti stradali. Abbiamo fatto una finanziaria che ha disposto un programma triennale di formazione e siamo contenti del lavoro fatto. L'anno scorso oltre 5.000 ragazzi, 55 comuni. Quest'anno abbiamo implementato ancora di più questo programma e speriamo che le altre regioni seguano a ruota perché l'Italia è il paese fanalino di coda per queste statistiche. veramente è una vera e propria guerra, 3.000 morti all'anno, circa 8 morti al giorno. Dobbiamo assolutamente intervenire e sensibilizzare soprattutto la fascia più a rischio che è quella dei giovani. Stamattina siamo alla 22esima tappa del progetto Sisaggio Guida Sicuro. Siamo quasi al termine del percorso che si concluderà il giorno 8 maggio in Piazza Municipio con l'allestimento del villaggio e la premiazione presso il Teatro Mercadante. C'è ancora tempo per presentare al concorso di idee gli elaborati da parte degli studenti delle scuole primarie, secondarie e degli studenti universitari che è un contributo di idee per quando attiene la sicurezza stradale. Un contributo che nasce anche da questi incontri che noi teniamo con gli studenti delle scuole nei comuni della regione Campania. Un contributo che serve a chi è preposto alla sicurezza stradale nel proprio lavoro quotidiano per fare in modo che gli incidenti diminuiscano i morti sulle nostre strade. Grazie. 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 Grazie.